Giochiamo contro Milano, che è una squadra in questo punto della miglior forma del campionato italiano. Questo hanno anche confermato passandoci al Top 6 in Devolega e così significa che c'è un'unica squadra che gioca al Top 16 dal campionato italiano. Così abbiamo il rispetto di loro, ma non abbiamo paura. Milano è una squadra che può giocare in tanti modi, può giocare con quattro Camemeli e Clisa che possono fare pick and pop. Sulla palla ci sono forti con Dragland, Moore e Gentile che fanno differenza con Pallegge e con pick and pop giochi. Come sappiamo anche dentro l'area c'è Samuels che è di grande forma con James. Così dobbiamo essere forti e forza mentale, energia, la proviamo vinci.